Benvenuti a Pateropoli, ecco qui, creato il collo di bottiglia, cambiati i sensi, è la fine, abbiamo calciato il traffico, come no? Giro, giro, tondo, adesso per prendere l'autostrada bisogna fare un bel giro, attraversare Piazza Fera, perché qui ovviamente intelligentemente hanno messo una contro l'altra le strade, si crea un altro collo di bottiglia, ecco qua, il caos è servito, come si trova? Malissimo, malissimo, io abito sul palazzo del Continental e da stamattina alle sette e mezza che sentiamo solamente suonare i clacson, non si può più dire. Cioè i due controsensi, una contro l'altra, due macchine, ma poi confluisce tutto qua davanti alla scuola, non è pensato, ma la cosa simpatica è anche che chi vuole accorciare come prima da via Gallup che adesso fa per 50 metri, si fa tutto il giro, guardate un po', e si fa un'ora di coda intorno ai palazzi di Gallup. alla famiglia . e gli i i i Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti